Lo sportello del cittadino incontra l'avvocato Stefano Rossi, direttore generale dell'ASL di Taranto, per lanciare un appello, un appello per la donazione del sangue. Donare sangue non è mai abbastanza e se non dovesse bastare il fine utilitaristico di far bene, di far bene agli altri che di per sé solo ci può pagare, ricordiamoci che andare a donare sangue e ci consente di fare una serie di esami che non fa male per controllare lo stato di salute. Andiamo a donare sangue, andiamo nelle strutture pubbliche a donarlo. Quindi uno screening proprio che ci consente di avere un... Ogni volta che si donna sangue si ha questa possibilità. Direttore, è anche una questione proprio di formamenti, culturale, in altre città, bisognerebbe prendere proprio i più giovani, in genere si portavano a donare i militari, ma io penso che il giovane, il diciottenne, che sta in forma, che fa sport, deve essere indirizzato in questa sana pratica che poi ha un valore morale e sociale davvero ragguardevole. In questo ci aiutano molto le associazioni che qui su Taranto sono molto presenti, che sono capillarmente presenti sul territorio e che già raggiungono tantissime fasce anche di giovani. Devo dire che sotto questo profilo, abbiamo detto che inizio non è mai abbastanza donare, però la provincia di Taranto è in equilibrio come forma di raccolta e sotto questo profilo dobbiamo dirci moderatamente soddisfatti. E allora, andiamo a donare il sangue.